Allora, buongiorno a tutti, siamo arrivati alla nostra quarta giornata dei nostri lavori, il nostro quinto panel, e dopo due pomeriggi molto ricchi e lunghi discussioni su momenti diversi della lunga cronologia dell'età medievale, abbiamo stamattina la cronologia più tarda, ma non per questo meno interessante, un panel appunto di tutto ambientato nel quindicesimo secolo, anche nei suoi decenni diciamo centrali e finali, insomma tra il terzo e il quarto, quinto diciamo del secolo, quindi meno respiro forse tematico di altri panel di queste giornate, ma non per questo una cosa che risulti specialistica, assolutamente. A maggior ragione siamo molto contenti che il professor Sandro Carocci di un'estate di Torvergata abbia accettato di fare la discussant, e siamo contenti anche della presenza di molti altri studiosi e persone che potranno appunto partecipare, animare il dibattito a seguito del ruolo del professor Carocci. Allora, il nostro titolo del panel è La disobbedienza tra corte, clientela e famiglia nell'Italia rinascimentale. Abbiamo tre interlocutori, tre intervenienti, il dottor Matteo Briasco è arrivato nel frattempo, non so perché non... Sì, c'è, buongiorno Matteo. Buongiorno. Buongiorno, ti presento brevemente. Il dottor Briasco si è laureato all'Università di Roma La Sapienza, sia in laurea eternale che in laurea magistrale, ha fatto dei lavori sempre concentrati sulla fine del Medioevo e sul Rinascimento, e in particolare sulla tesi di laurea magistrale è stata seguita dalla professoressa Giulia Barone e dalla professoressa Leonora Plebani, che già era stata la sua redattrice alla triennale, sulla figura di Bianca Maria Visconti, che, ricordo perché ho sentito la discussione, comunque era stata molto ben accolta, anche per un tentativo di unire più chiave di lettura sulla figura di Bianca Maria Visconti. Ma non mi dilungo su questo. Fa il dottorato presso l'Università della Tuscia da pochi mesi, credo sia seguita da Anna Modigliani, se non erro, e il suo progetto di dottorato verte su due cardinali francesi della seconda metà del secolo XV, il cardinale Guillaume de Coutteville, già studiato da Anna Esposito, e un cardinale meno conosciuto, il cardinale Alain de Coutteville, che Matteo, il titolo preciso del progetto, è anche cambiato, quindi magari se Matteo lo vuole ricordare lo dirà con meno errori di me, ma è un progetto molto interessante che tra l'altro appunto dà degli spunti anche per la primissima modernità. Questi sono interessi che uniscono anche a me, quindi mi fa molto piacere presentarlo. Il titolo di oggi di Matteo è Disobbedienza familiare e disobbedienza politica. Il caso di Galeazzo Maria Sforza e Bianca Maria Visconti. quindi proprio sugli studi che ha affrontato molto in maniera più approfondita finora. Prego Matteo, 20 minuti. Ecco, sì, c'è modo di presentare un, condividere lo schermo, presentare un PowerPoint? Sì, c'è il tasto presenta ora, mi sembra, sulla banda inferiore. Sì, presenta ora. Allora, uno, il mio schermo intero, mi piace. Ok. Mi vedete? Io vedo, vedo e ti sento anche bene. Ok, perfetto. Allora, intanto ringrazio tutti gli organizzatori per avermi permesso di essere qui nelle stanze della Sapienza, seppur virtualmente. Mi scuso anche per non essere riuscito a seguire tutti gli interventi nei giorni scorsi, ma purtroppo, per fortuna, prima di conoscere le date del convegno, mi era stata accettata una prenotazione a Milano in archivio e in questi tempi duri mi è stato impossibile rinunciarci. Allora, oggi vi parlerò di disobbedienza familiare, disobbedienza politica, il caso di Galeazzo Maria Sforza e Bianca Maria Visconti. Prima, forse, non costerà una brevissima introduzione storica. Siamo tra il 1466 e il 1468. Sono appena morti due protagonisti della scena politica italiana, Cosimo de' Medici nel 64 e Francesco Sforza all'inizio del 66. Questo porta appunto a una piccola crisi, soprattutto a Firenze, dove fallisce una congiura contro Piero di Cosimo de' Medici. Il fallimento della congiura porta a un fenomeno di fuoriuscitismo. I fuoriusciti fiorentini si rivolgono a Venezia, in particolare a Bartolomeo Colleoni. Costui nel 67 prepara una spedizione militare per ricollocare i fuoriusciti a Firenze. Viene sconfitto però nella battaglia della Riccardina, nell'estate, e la sua impresa si risolve in un nulla di fatto. Galeazzo Maria Sforza, che nel frattempo è diventato Duta di Milano, è costretto ad abbandonare il fronte di guerra in Romagna per spostarsi sul fronte della Lombardia occidentale e contenere un tentativo di invasione delle truppe dei Ducatori Savoia. In politica estera, il nuovo Duca abbandona un po' quella che era stata la linea del padre di amicizia sia verso la Francia che verso Napoli per dirigersi verso una più decisa alleanza francese. Andiamo adesso ad analizzare i fatti veri e propri. Alla morte del padre, il Duca Francesco, l'8 marzo del 1466, il 22enne Galeazzo si trovava in Francia, a capo di una spedizione inviata dal Duca Francesco in soccorso del re Luigi XI, impiegato nella guerra del bene pubblico. Colto impreparato dalla morte del Duca, il giovane Sforza cercò di rientrare in tutta fretta a Milano, venendo tuttavia sorpreso da una torma di contadini in Savoia, forse aizzata proprio dagli stessi duchi savoiardi, nei pressi della Novalesa. Fu costretto a rifugiarsi all'interno dell'abbazia dopo un aspro combattimento e vi rimase alcuni giorni prima di venire liberato grazie alla sapientazione della diplomazia milanese. Il 20 marzo fece finalmente il suo ingresso trionfale a Milano durante una cerimonia che era stata previsposta dalla madre Biancamaria, già operatasi energicamente non solo per la liberazione del figlio, ma anche per l'ottenimento del giuramento di fedeltà da parte di feudatari, comunità locali e città del Ducato di Milano. Galeazzo e la madre intrapresero a quel punto quella che, de facto se non de jure, può essere definita una correggenza del potere. Con correggenza intendo che atti pubblici, corrispondenza ufficiale, venivano firmati a quattro mani e dalle fonti disponibili appare chiaro che il giovane Sforza non contestò, almeno inizialmente, le ingerenze della madre in tema di politica interna ed estera. Qualche rimostranza è emersa invece già da subito riguardo alla politica matrimoniale, ma questo era un tema che toccava Galeazzo personalmente dal momento che lo sposo era lui, lo scapolo d'oro, insomma, conteso tra i mantovani e buona di Savoia. La storiografia ha affermato a più riprese che questa correggenza fu stabilita da una precisa disposizione scritta di Francesco Sforza. Ad oggi quest'ipotesi, a mio parere, è plausibile, ma non probabile, dal momento che nessun autore, tra gli altri cito in ordine di... dal più recente al meno recente, Somaini, Catalano, Pizzagalli, Gian e Terni dei Gregori, è stato in grado di appunto citare il suddetto documento, la cui esistenza non è tuttavia improbabile ed intorno alla quale orbita il mio ragionamento sull'obbedienza-disobbedienza. Perché se queste disposizioni scritte fossero esistite, è evidente che entrambi i protagonisti della nostra storia ne sarebbero stati a conoscenza e dunque le azioni di Galeazzo, che nel dicembre del 67 esautorò la madre dal governo, sarebbero da considerarsi come un vero e proprio colpo di Stato. Al contrario, in assenza di disposizioni del Duca Francesco, se Bianca Maria avesse retto il Ducato in nome o a fianco del figlio per quasi due anni, lo avrebbe fatto senza titoli legali, in virtù di una trasposizione dell'autorità materna sul piano politico, che non necessariamente Galeazzo avrebbe dovuto riconoscere legittima. C'è una seconda ipotesi, pure sostenuta da storici come Lucchini e Vaglienti, che sostiene che la correggenza si instaurò in virtù della minore età di Galeazzo. Questa però mi sembra leggermente meno sostenibile, perché se è vero che il giovane Duca viene definito adulescens dagli stessi cronisti sforzeschi, in particolare da Giovanni Simonetta, e viene definito edulescens appunto parlando dell'epoca dei fatti, è anche vero che, seppur in contesti molto diversi, la minore età, che è meno di 25 anni appunto, secondo il diritto romano, non aveva impedito a personaggi come Federico da Montefeltro di prendere il potere al momento opportuno, o penso anche in una criptosignoria a Lorenzo de' Medici, o ancora qualche decennio dopo a Francesco I in Francia. Si tenga presente, per concludere questo breve ragionamento introduttivo, che stiamo dando per scontata la legittimità della successione sforzesca. Questo, se storicamente può sembrare ingemmo, è noto infatti che il regime avrebbe ottenuto un'investitura imperiale solo con Ludovico il Moro, decenni dopo i fatti qui esaminati, risulta tuttavia funzionale questo ragionamento, in quanto ai fini di una riflessione su obbedienza e disobbedienza, è necessario prima di tutto tentare di fare nostro il punto di vista degli abitanti del Ducato, degli esponenti di spicco della Corte e soprattutto dei membri della famiglia che non avrebbero mai messo in discussione la legittimità del proprio governo. Come vedremo tra poco, tuttavia, è evidente che una disputa sull'autorità ebbe luogo e non rimase senza conseguenze. In una prima fase della correggenza è possibile individuare alcune tendenze. Galeazzo, per gran parte del 1466 e nella prima metà dell'anno successivo rifiutò di risiedere a Milano, prediligendo tenute i castelli sforzeschi fuori città. Tanto dal carteggio del Duca con la madre quanto dai dispacci degli oratori mantovani residenti alla Corte Ducale emerge una tensione nel giovane. Da un lato, costruì era scontento della poca autorità concessagli e offeso, forse addirittura ferito, dalla scarsa fiducia che la madre gli dimostrava. Dall'altro era anche pronto a lasciare nelle mani della Visconti tutti gli aspetti pratici e impegnativi del governo, ai quali pure la madre cercava di introdurlo e coinvolgerlo gradualmente. Spesso senza successo, dal momento che Galeazzo non si faceva mancare rimproveri per la sua scarsa applicazione. Vediamo alcuni di questi rimproveri. L'8 settembre del 66 Bianca Maria scriveva «Averessimo avuto caro che ne avessi mandato la minuta di quella lettera che sia scrivere ad Orfeo e tassagramoro di Arimino, la quale fin qui non avemmo avuto, a delle quale è necessario si risponda e presto». Poche settimane dopo, la Visconti fu costretta a rimproverare nuovamente il primo genito per la trascuratezza con la quale trattava le faccende di Stato, nella fattisprecie ancora questioni riguardanti la corrispondenza, contravvenendo inoltre a delle precise indicazioni. Cito «Domino Fabricio, e qui si parla di Fabrizio Carafa, che era l'oratore di Ferrante d'Aragona a Milano, quindi non un personaggio di poca importanza, sedole, che questi dite mandò uno mazzetto di lettere che gli aveva scritto alla Majestà del Re a ciò che le vedisti, dice che ancora non li ha rimandato e per questo resta di rispondere alla prefata Majestà. Il perché, non avendo ancora rimandato dicte lettere, vogliate mandare a ciò che gli possa fare risposta? L'apitudine di Galeazzo a disattendere le indicazioni e le richieste dei genitori aveva radici più antiche che qui purtroppo non c'è il tempo di analizzare, ma con la morte del padre e l'ottenimento del titolo ducale, il giovane non era più disposto ad obbedire ciecamente, rinunciando del tutto alla propria indipendenza. Doveva anzi soffrire questa condizione di subordinazione alla madre, come testimoniato da una lettera ironica e amareggiata del 5 novembre, che, vista l'importanza, vorrei leggere per intero. «Illustrissima Madonna mia madre e Madonna observantissima, benché avesse scritto di mia mano a vostra signoria del perere mio de Sforza, che è Sforza II, figlio naturale di Francesco Sforza, da non confondere con Sforza Maria Sforza, che invece era il fratello minore di Galeazzo, niente di meno, per una soa, per quella per una soa mi scrive, non voglio sostenere il parere di Galeazzo. La qualcosa mi pare molto ben fatta, e non bisogna che Galasso venga per questo, perché vedendo non gli parlerò. E in quest'ora conforterò Sforza a tornare a Borgonovo, se chiede questo alla signoria vostra resta satisfatta. Rispondendo anche ad una vostra, per la quale mi scrive che voglia venire a Mediolano, perché essendo lì si spazzaria qualche cosa, rispondo che prego la signoria suo nome Calefi, dall'antico Calefare, farsi beffe, perché la vostra signoria sa bene che io non sono quello che faccia facendo a Milano, ma è lei sola, e conoscendo io essere stato figliolo della buona memoria del Duca Francesco, non voglio venire lì per essere auditore di signoria vostra e senza salario. E ora conosco essere vero quello che la signoria vostra più volte ha detto, cioè io essere giovane e poco savio, e questo è perché io credeva il Stato essere comune della signoria vostra e di me, ma comprendo solo della signoria vostra, la quale Messer Dominidio la conservi in esso Stato. Qui abbiamo una prima esplicita ammissione del fatto che una correggenza esisteva ed era riconosciuta da entrambe le parti, lo stesso Galeazzo ammette che lo Stato è della signoria vostra ed è mi. Questo primo atto di esplicita insubordinazione viene scatenato a dar fede al contenuto della lettera dalla richiesta di Bianca Maria. Galeazzo, tornando a Milano, sarebbe riviombato sotto il più diretto controllo della madre. L'ipotesi è plausibile e confermata dai resoconti dell'oratore Mantovana alla corte sforzesca. Costui riporta che anche nei suoi brevi passaggi a Milano il duca non è stato ancora da sua eccellenza dopo che il venne. Chieri fece farle scusa che l'era tardo. Questa mattina dopo che l'ebbe audito la messa disse queste parole non voglio andare da Madonna mia madre che la deve dire ufficio. Queste sono le parole di Marsiglio Andreasi che era l'oratore di Mantovana alla corte sforzesca e che riporta quelle che erano evidenti scuse anche abbastanza ingenue se vogliamo di Galeazzo che non va a trovare la madre perché è tardi perché lei deve andare a messa e è evidente insomma che c'era una precisa volontà di non incontrarla. Galeazzo fu a Milano per pochi giorni nel novembre del 66 poi di nuovo a Natale ancora nel febbraio del 67 lasciando nuovamente la città portò a consil il tesoro ducale ovvero tutti i denari soi e così li a tutti nel castello di Pavia. L'operazione preoccupava Biancamaria che aveva probabilmente già avvertito in gennaio i prodromi del colpo di mano galeazzesco. Questo colpo di mano galeazzesco si sarebbe concretizzato solo qualche mese dopo con la cosiddetta desmonta in castello che è un passaggio essenziale che è necessario anche approfondire. Prima qualche precisazione il castello è il castello di Porta Giovia oggi meglio conosciuto come Castello Sforzesco ed era stato il simbolo dell'oscura dominazione di Filippo Maria Visconti. Non a caso era stato raso al suolo dai cittadini organizzati nella Repubblica Ambrosiana alla morte di Duca nel 1447. Francesco Sforza ne dispose la riedificazione senza però arrivare a farne la propria residenza consapevole della valenza simbolica del castello. Il condottiero scelse di risiedere principalmente nel palazzo dell'Arengo nel centro città piuttosto che rintanarsi in una minacciosa fortificazione adiacente alle mura cittadine. Ecco, Biancamaria avrebbe voluto che il figlio seguisse gli stilli paterni quando Galeazzo la informò di avere intenzione di rientrare a Milano e soprattutto di pernottare nel castello occupandosi lì di erogare i pagamenti ai soldati e dunque conseguentemente di alloggiare una considerevole forza armata al suo interno la madre tentò una mediazione concesse il primo punto che tra l'altro avrebbe significato il rientro del figlio in città obiettivo a lungo perseguito dalla Visconti cito circa la parte del tuo venire lunedì di andare a alloggiare in castello piaceno che tu vada a dormire in castello a tuo piacere ma si oppose fermamente alla raccolta dei soldati a noi non pare che tu abbia a congregare le famiglie d'armi in quello loco e questo è l'inizio di un cambiamento nei rapporti tra madre e figlio una mossa studiata a lungo dal Duta che tal scopo sondò anche le opinioni di alcuni membri dell'entourage della Duchessa cito una lettera di Pietro Pusterla notabile milanese di una certa importanza e di Bellino fino al Midollo ho visto quanto mi scrive la eccellenza vostra circa il chiarirla del mio parere per andare in smontare in castello eccetera con laudata fede gli ricordo il mio parere che martedì e mercuriedì la stessa in castello e poi due altri giorni a corte e così a poco a poco ritornarsi a alloggiare in castello e questa seria unica via per non dare umbrezza alla brigata la brigata qui è appunto la famiglia nella persona di Bianca Maria Visconti e Pietro Pusterla era un alleato politico della della Visconti e avversario politico di Galeazzo con il quale ebbe sempre un rapporto molto tormentato e quindi molto interessante il fatto che in questa occasione il figlio si rivolga a un personaggio di questo tipo per ottenere informazioni sulle intenzioni e sulla mente della madre questi eventi vennero interrotti dall'inizio della guerra con le Unesca che bloccò ogni aperta ostilità Galeazzo non si coprì di particolari onori in battaglia ma ebbe modo in quei mesi di sviluppare una sua cancelleria personale indipendente assistito da Cicco Simonetta e di portare dalla sua parte non solo i soldati e i capitani il nervo quindi dell'esercito sforzesco ma anche i fratelli Filippo e Sforza Maria rientrata a Milano il 29 novembre del 67 diede atto ai suoi propositi si asserragliò nel castello con pochissimi fedeli vietando l'ingresso scusate ho perso il testo scusatemi ho avuto un problema di natura tecnica ecco procedette quindi a una vigorosa redistribuzione degli incarichi da dentro il castello dove nessuno poteva entrare volta a rimuovere da posizioni di potere gli avversari politici e gli esponenti della fazione di Bianca Maria alla quale pochi giorni dopo venne tolta la facoltà di tenere udienza pubblica in corte della Rengo questa era una facoltà che Bianca Maria aveva sempre avuto anche con Luca Francesco a questo punto la correggenza può considerarsi terminata la Visconti ormai esautorata da qualsiasi incarico pubblico ufficiale bella legata in un sacco secondo le parole dello stesso Galeazzo non si piegò senza lottare alle decisioni del figlio affiancata dalla figlia Ippolita Maria Sforza tornata per qualche mese in Lombardia al seguito del marito Alfonso Barallone intraprese una pericolosa corrispondenza segreta conferrante con l'oratore mantovano a Napoli Antonio Latrezzo Bianca Maria era passata in pochi mesi dallo stato di duchessa madre circonfusa da un'aura di autorità a quello di suddita oltretutto mal sopportata dal duca a questo punto più signore che figliolo prova di questo stato di cose è un netto cambiamento nei toni della corrispondenza dall'affettuoso tu la visconti era passata al dare del voi al primo genito che non aveva mancato di rinfacciare questa freddezza alla madre cito da una lettera non mi vogli più scrivere per lo avvenire come sefalli forestieri e strani dicendomi del voi perché io intendo che la signoria vostra mi scriva e dica del ti dall'attendere obbedienza la donna iniziò a disobbedire la prima interpellò gli alleati del defunto duca suo marito il marchete di Manto e il re di Napoli entrambi offesi dal comportamento incostante di Galeazzo costoro le consigliarono contro le disposizioni del figlio di abbandonare immediatamente Milano per la propria incolumità Ferrante addirittura le propose per tramite dell'ambasciatore Antonio D'Atrezzo di ridursi a Cremona dove la donna poteva beneficiare della vicinanza a Venezia usando la propria fedeltà al ducato sforziesco come moneta di scambio nelle future trattative con il figlio il vero tradimento fu tuttavia il contenuto dei colloqui con l'Andreasi che abbiamo visto essere l'ambasciatore Manto Vanna alla corte sforzesca durante uno dei quali la Visconti arrivò a ventilare l'ipotesi di un accordo con la Serenissima cito e stando così tutta pensosa la mi disse queste parole accunciamo secondo Veneziani altro aspetto fortemente compromettente era la corrispondenza con il D'Atrezzo costruito nel 67 era stato richiamato a Milano dal Duca e lì dovette ricevere un cifrario privato da Biancamaria che l'ambasciatore avrebbe usato nei mesi seguenti e che credo di aver ritrovato proprio ieri nell'articolo di Stato di Milano e l'ho messo qui nella diapositiva spero si veda è un cifrario piuttosto complesso con delle più simboli per ogni lettera simboli nulli simboli per parole frequenti simboli per delle sillabe simboli per i personaggi importanti della scena politica italiana Matteo allora si vede un po' in piccolo ti avviso anche che siamo agli sgocci quindi qualche minuto mi sto avviando all'intenzione ok allora nel carteggio incriminato Biancamaria dichiarava che mai avrebbe lasciato al figlio Cremona la sua città totale metteva per iscritto le bugie e le scuse scogitate per poter lasciare Milano con l'intenzione di non farvi ritorno confessava inoltre il coinvolgimento del Marchese di Mantua dal quale sperava di ricevere aiuto in gli fatti di Cremona nel complotto veniva coinvolta anche Ippolita tornata a Napoli nell'ottobre del 68 la Duchessa di Calabria avrebbe dovuto svolgere un ruolo di mediatrice tra Ferrante e Biancamaria ruolo che fu reso superfluo dalla prematura morte della Duchessa la forza ebbe tuttavia tempo di inviare una lettera alla madre nella quale affermava e ven raccontate una ad una a Ferrante le molte pazzie di Galeazzo il dispaccio composto senza usare cifre e utilizzando toni molto duri sarebbe stato cagione poi della caduta in disgrazia di Poi dagli occhi del fratello Biancamaria scelse di tornare a Milano per il matrimonio del figlio atto quasi emblematico della propria resa a convincerla che una ribellione una resistenza cremonese non fosse attuabile nemmeno per lasciare la propria città dotale a un figlio cadetto magari proprio a Sforza Maria che era stato promesso a Beronora d'Aragona e costruire così un alcontro signoria sforzesca in grado di bilanciare l'assolutismo del Duca fu probabilmente la cosciente esclusione del proprio nome e della propria città dalle trattative di pace svoltesi a Roma nei mesi precedenti nessuno infatti aveva pensato di inserirla tra aderenti e collegati perché secondo le parole dell'Aragonese sempre credeti che quello si faceva per lo Duca si facesse per la signoria vostra privata del sostegno di Ferrante sempre pronta ad aizzare il fuoco di Lombardia ma meno propenso ad impegnarsi personalmente privata poi di una propria fonte di entrate significativa a Bianca Maria non restò che spegnersi lentamente ammalatasi durante le sue peregrinazioni nel Ducato morì nell'ottobre del 1468 circondata dai suoi figli e in compagnia del confessore Michele D'Acarcano ci furono anche ipotesi di avvennamento che però sono state a mio parere confutate in maniera molto convincente da uno studio di Nipug del 2000 D'Aleazzo non mancò di premonirsi nel caso le trame della madre avessero portato qualche frutto prima ancora della morte della donna infatti aveva dato ordine ai suoi fedelissimi di occupare ecco le conclusioni per parlare di disobbedienza è necessario individuare un'autorità riconosciuta esplicitamente o implicitamente dalle parti in questo caso per ammissione dello stesso D'Aleazzo almeno fino al 1466 questa risulta essere Bianca Maria e non è un caso che il figlio appunto tendesse ad allontanarsi fisicamente dalla residenza del potere per ritagliarsi spazi fisici politici e personali di disobbedienza sarà proprio questo spazio a permettergli nel giro di pochi mesi di rovesciare i rapporti di forza è Bianca Maria allora che dal 1468 abbandona la città per trovare i propri spazi di insubordinazione sarebbe stato però proprio l'amore per Milano a tradire la Visconti nelle sue stanze personali infatti la duchessa per qualche ragione aveva lasciato tracce della corrispondenza segreta con Napoli precisamente il cifrario le minute delle proprie lettere e le responsive del datrezzo entrando in possesso di questo materiale Galeazzo venne a conoscenza delle trame della madre si guastò a questo punto il legame con la sorella che non si sarebbe ricomposto prima del 71 e se possibile ulteriormente quella conferrante la vendetta del Duga sarebbe stata terribile dopo la morte della madre egli si accanì contro il segretario personale di lei Galasso Carcassola il quale fu imprigionato e torturato fino a morire nelle carceri ducali i suoi beni vennero inoltre confiscati maggior fortuna ebbe l'altro cancelliere coinvolto nell'assessura delle lettere Iri da Venegono costui dopo aver scritto una supplica a Galeazzo venne assegnato al seguito di Buona di Savoia restando escluso da cariche di maggiore responsabilità fino al 1473 Antonio D'Attrezzo che era forse uno dei personaggi più colpevoli venne in breve tempo esautorato dalle proprie funzioni come oratore sforzesco a Napoli seppe ben sfruttare tuttavia la relazione costruita con Ferrante con il quale non va dimenticato aveva condiviso le gioie e i dolori della guerra di successione napoletana pochi anni prima Ferrante appunto lo assunse al proprio servizio impiegandolo in missioni diplomatiche negli anni successivi con questi brevi appunti sulla disobbedienza non solo familiare ma anche di funzionari sforzeschi concludo la mia relazione e ringrazio per l'attenzione grazie grazie Matteo grazie per la tua relazione e per aver chiuso comunque abbastanza nei tempi previsti grazie a tutti grazie a tutti